Cosa tratti tra la misura della legge di Covid-19? La legge di Covid-19 è una legge federale urgente e per cui è limitata. Dopo che la è in vigore, il Parlamento mi dà la più risposta. Con l'ultima misura del 16 Dezember 2022 abbiamo deciso che diverse parti della legge restano disponibili fino al mese di dati del 2024. Qui per tutti i suoi punti? L'importo dei medici contro la Covid-19? L'emissione dei certificati di Covid-19? Le misure che le spetture e le spetture stanno a prendere per proteggere collaboratori e collaboratori particolari ma impariclietti? L'informazione dei cittadini sull'occupazione dei luci d'ospedale? La promozione del sviluppo dei medici contro la Covid-19? La possibilità di reattivare l'app SwissCovid? La possibilità di limitare l'entrata di persone di certi paesi? Regole speciali per confinari e confinari? Contra la misura della legge del Covid-19 del 16 Dezember 2022 è venuto lanciare il referendum, per cui votare noi dovremmo fare questo progetto. C'è semidati Se le semidati vengono approvati, restano in vigore fino alla mesura del 2024. Se le semidati vengono refusati, vengono annullati il 16 Dezember 2023. Le semidati vengono annullati per qualche che si tratta tra la legge del Covid-19 di una legge federale urgente. Anullati vengono molto semidati dal 16 Dezember 2022. Quali sono i argomenti delle aderenti e delle aderenti? Grazie alla legge del Covid-19 possono i medicamenti contro la Covid-19 venire più svegliati. Grazie alla legge del Covid-19 possono emettere davanti certificati qualsi sono necessari per caso che altri paesi pretenden più spesso in certificato. Bleras confinari e Blers confinari lavorano in ospitali. Se i confinari vengono più spesso potrebbero lavorare in avanti, ciò garantisce la legge del Covid-19. Ci sono i argomenti delle aderenti e delle aderenti. Erano persone vaccinate per sponderare il virus. Il certificato era mai inutile. Una cosa che era una base legale più per quella. Una delle restricczioni più della Confederazione per cui non dovrebbero erano più per la legge del Covid-19. La legge ha dato la mia responsabilità al Consiglio federale e che dice che la legge esiste è pericolata la democrazia in Svizzera. Se ti vuoi che la midade della legge del Covid-19 venga approvata, l'ora vota è già già. Se ti vuoi che la venga rifusata, l'ora vota è già già. Svizzera 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 Svizzera